Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di Joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e come ogni giorno ragazzi facciamo subito il giro vediamo oggi il vincitore vince Vitox facciamo subito il giro ragazzi bentornati in questoissimo video io sono Cecchinato e oggi siamo qui in un nuovissimo video ovviamente per parlare di nuovissimi leak oggi parleremo innanzitutto del nuovo bundle finalmente svelato con anche ricompense gratis di chi sto parlando ovviamente della nuova collaborazione con My Hero Academia che è già stata svelata regali, sfide, bundle nello shop e tanto altro e poi piccole news da prima iniziale, solito like, mi raccomando iscrizione link in descrizione anche al mio canale Telegram detto questo partiamo subito iniziamo quindi con questa notizia qui che come possiamo vedere riguarda la Creativa 2.0 infatti come possiamo leggere è stato confermato proprio da Fortinet Creativa che non riceveremo più notizie sulla Creativa 2.0 nel 2022 questo vuol dire che per avere anche piccole informazioni ragazzi servirà aspettare almeno il primo gennaio quindi il nuovo anno 2023 anno in cui ovviamente uscirà la Creativa 2.0 che non abbiamo ancora una data precisa una data insomma ufficiale a parte Epic Games ma grosso modo potrebbe arrivare già a gennaio speriamo ovviamente che poi non ci siano ritardi perché comunque parliamo di una cosa enorme quindi non mi stupirei io direi in tal caso magari venga ritardata l'uscita magari direttamente anche a febbraio quindi vedremo ragazzi sicuramente non è una cosa facile però è una Creativa che comunque è una modalità ecco che ci stanno veramente lavorando da tanto ma tanto tempo quindi vedremo potrebbe arrivare da gennaio come anche febbraio dipende dai ritardi parlando un po' di negozio oggetti ragazzi abbiamo poi un nuovo bundle a prezzo scontato di un content creator credo che arriverà sul negozio oggetti di Fortnite diciamo che è un bundle niente di che insomma abbiamo quella skin che già conosciamo a 1500 bucks il piccone di San Valentino abbiamo un emote abbiamo poi dei backpack credo quelli siano che puoi cambiare anche gli stili se non erro e poi abbiamo il backpack proprio ovviamente originale della skin dovrebbe costare il tutto giù di lì sui 1800-2000 bucks se non possedete ovviamente niente adesso direi che possiamo concentrarci sulla nuova collaborazione che c'era già stata svelata ovviamente a inizio stagione 1 del capitolo 4 collaborazione quindi con My Hero Academia che ragazzi porterà veramente un sacco di cose bundle nello shop ricompense gratis con pure sfide direi che iniziamo quindi con il bundle ecco come si presenta abbiamo quindi un bel po' di skin come possiamo vedere abbiamo emote piccone insomma un bundle bello bello grosso vi metto anche qui ragazzi quest'immagine che come possiamo vedere ci sono altri cosmetici per lo più oltre ovviamente alle skin che abbiamo appena visto dei spray e ovviamente emoticon poi vedo in basso a destra che ci sono i bundle anche a prezzo scontato quindi anche le skin i picconi eccetera potrete prenderli come sempre altronde a un costo minore poi altra cosa importante quando saranno disponibili queste skin nel negozio oggetti fortnite ecco qui la data alle ore 13 esattamente di oggi ragazzi oggi 16 dicembre alle ore 13 avremo già nel negozio oggetti questo bundle che quindi si riflessa allo shop e apparirà tutto il bundle di My Hero Academia ma come vi avevo già detto ragazzi ovviamente abbiamo anche delle ricompense gratis in occasione in questa collaborazione vi metto infatti le sfide esattamente qui alla mia destra come possiamo vedere ad esempio ogni sfida che vedete ci ha collegato una ricompensa in questo caso a livello di cosmetici abbiamo uno spray un altro spray e un emoticon quindi quello che fa insomma l'avatar con le mani per capirci e poi uno zaino quindi anche un backpack il resto invece ragazzi da quello che vedo sono solamente punti esperienza che non sono pochi perché ogni sfida completata sono 20k di XP quindi vi fate comunque un bel po' sicuramente di XP a livello di cosmetici quindi ripeto due spray in regalo un emoticon e un backpack questi sono diciamo i cosmetici gratuiti fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi ripeto alle ore 13 comunque dovrebbero esserci anche le sfide credo massimo alle 16 quindi vedremo comunque queste sono le ricompense eccetera fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando il like non dimenticate uno insieme all'iscrizione con il campanellino ci vediamo domani ovviamente sempre qui alle ore 16 ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti